Le tre grandi aree metropolitane del paese, Roma, Milano e Napoli, unite per arginare l'emergenza criminalità. Dopo l'efferato omicidio del giovane pizzaiolo Francesco Pio Maimone, il sindaco di Napoli va in pressing sul ministro dell'interno Matteo Piantedosi, filo diretto con il Viminale per la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Claudio Palomba in programma nella giornata di oggi. In col ci sarà il ministro, Manfredi e i sindaci di Roma e Milano, rispettivamente Roberto Gualtieri e Beppe Sala. L'occasione giusta per chiedere più agenti in città, soprattutto di notte, e maggiori strumenti nelle mani dei sindaci. In pratica quello che Manfredi ha indicato all'indomani del delitto di Mergellina. È fiducioso l'inquilino di Palazzo San Giacomo. Del resto il tavolo delle città metropolitane sulla sicurezza lo ha voluto lo stesso Piantedosi e dopo il primo incontro di novembre ritenuto proficuo dall'ex rettore, ora Manfredi si aspetta concretezza. In generale Manfredi richiede un forte impegno del governo sul fronte della sicurezza e della tenuta sociale del nostro territorio. Non a caso, sin dal suo insediamento, ha favorito un coordinamento stretto tra istituzioni e forze di polizia per rispondere alla necessità, soprattutto in alcune zone della città. Perché non c'è solo Mergellina, ma anche l'area della stazione centrale, dove operazioni come Alto Impatto stanno andando avanti, e poi c'è la questione Movida. Probabilmente il sindaco a questo si riferisce quando chiede nuovi strumenti da fornire ai sindaci. Nella sostanza nuove norme che consentano ai primi cittadini di incidere sulla Malamovida, che riguarda sì Napoli, ma anche Roma e Milano.